sono le guarnizioni che avete visto in un precedente video e mi servivano per una cosa ben precisa adesso vi faccio vedere ecco vedete queste sono le guarnizioni come potete vedere questo è il tappo del lavandino e ho visto che ho preso le misure di prezzo con le vecchie ci vanno alla perfezione ne ho dieci queste sono come le guarnizioni sono come dice la descrizione di amazon sono delle guarnizioni che sono un materiale della madonna perché sono in nitrile appena va dentro si si sistema sono guarnizioni in vitrine per oleodinamica quindi vanno più che bene sono perfette per per fare questo tipo di lavoro ne ho prese dieci quindi due diciamo che un po qualche anno durano va bene ciao alla prossima